qui ragazzi siamo alle riprese con il carry on e boh un po perché non è facile questo quindi mettiamo questa si gioco di resident evil village che da due anni che comunque io sono un po ritardo perché non posso comunque ragazzi giocare sempre ho da fare cose importanti ma ogni tanto mi dedico a questo compito che ho fatto liberi grazie per i nuovi ci ho speso anche tanto scelto con dei pezzi giusti mi sembra alcuni riporti un po scatta non so come mai eppure altri si vede che c'è qualcosa però insomma ogni tanto metto harry potter tanto metto questo insomma vediamo un po se riesco a faggiare questi sposini e aprire questa scatolina che ci sarà qualcosa penso e quindi un po a caso vediamo un po richiamo a me mi si aprono i carry on ecco mi galbevi comprarlo uno che si carica molle poi c'è questa queste musichettine mi piacciono i carry on lo comprerò prima o poi un carry on da poco costano i carry on eh costano anche 100 euro mi sembra o di più poi dipende dal legno e dipende anche dal vediamo si carica la molla c'è qualcosa però c'è anche dei segni vedo quindi allora facciamo così perché non è facile allora se questo non va è andrà dall'altra parte non è che questo no ma è questo penso vada bene qui no questo neanche beh è un po difficile però si sarà il momento niente oia questa casa questi enigmi ragazzi proprio stronzi ma allora questo non è nera no ragazzi è un po difficile è un po sott'altro risolvere questo problema grazie gli iscritti e le situazioni di questo gioco favoloso sto bucaioli e non siete altro no bucaioli no ma divertente 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 aspetta 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 ora ho capito forse ho capito che sia possibile la linea è la linea la linea quindi probabilmente questo sarà qui no questo sarà qui neanche perché lì c'è la linea uguale vediamo un po se cambiando cambiando i no perché quello lì deve sta così allora vediamo un po ora che succede perché c'è la linea sembra magari sbaglio anche potrei anche sbagliare ma non ci senti gli indizi no non mi sembra stata facca perché senti la musica capito vediamo non capisco no ora vado a vedere ma non so in una stanza se c'è qualcosa per perché mi sembra strano che devo fare a caso cioè indizi c'è di sicuro che non l'ho visti comunque vabbè comunque c'è un carion e guardiamo questa stanza c'è qualche cosa che per rimettere a posto se non c'è nulla quindi ragazzi alla prossima video fatto un po così insomma